Buongiorno ragazzi, ciao a tutti, allora due notizie al volo però bomba, la prima mi è arrivata qualche giorno fa dall'ufficio del Midem, chi non conoscesse il Midem è diciamo il meeting internazionale della discografia o comunque più che della discografia io direi proprio degli industry professionals è un meeting che ovviamente prima di tutto sto casino avveniva a Cannes ora quest'anno lo fanno full digital ok per cui andatevelo a vedere ma è molto interessante perché potete conoscere songwriter, publisher, discografici, produttori è veramente un grande luogo d'incontro dove poi ci sono anche un sacco di meeting e dove io per esempio quest'anno ho proprio investito in modo specifico su proprio un paio di meeting specifici dei date con alcune persone e secondo me è una cosa interessante o quantomeno dovreste buttarci un occhio perché siccome quest'anno ahimè è digitale purtroppo sicuramente il fatto fisico di farlo fisicamente è tutta un'altra roba però c'è anche da dire questo che non ho idea ancora di quale sarà il ticket diciamo per i visitor o chi vuole o chi vorrà partecipare a determinate cose online però penso sarà molto più accessibile perché comunque quando lo facevano a Cannes e io lo so bene perché nel 2015 con It Beat Records avevamo partecipato al meeting appunto e avevo io in quel caso specifico mi ero occupato di tutti i date degli incontri e degli appuntamenti ok che da fare appunto all'interno del meeting e i biglietti erano molto cari molto cari cioè per i visitor sono cari per gli industry professional sono ancora più cari per cui penso che questo per dire che secondo me la cosa buona di tutto questo sarà che magari essendo appunto online terranno secondo me dei rate più accettabili però dateci un occhio è comunque una cosa da tenere d'occhio se volete fare musica se vi interessa il mondo del market musicale e da questo punto di vista domani ore 11.30 io vi lascio qua il link alla premiere mettetevi un campanellino l'unica cosa che ogni tanto ve lo chiedo anch'io perché perché stamattina ho preparato proprio un video dedicato al market musicale e a fare un pochino il resoconto di questi sei mesi e di tutto quello che io vi dicevo già dai primi di novembre tipo occhio ragazzi le cose stanno cambiando mettetevi in guardia cercate di strutturarvi e quindi ho preparato proprio è tornata la famosa lavagnetta e quindi ho preparato un video per voi dove cercare di raccontarvi e farvi capire quanto sia importante più si andrà avanti più quanto sarà importante conoscere determinate dinamiche per potersi muovere senza rischiare di schiantarsi contro i muri e fare errori o peggio buttare un sacco di quattrini inutilmente per cercare appunto questa fantomatica visibilità che dovrebbe portare alla sostenibilità musicale sapete che qui su music business italia ci teniamo veramente tanto a fare questo questi discorsi legati proprio alla sostenibilità musicale per cui ragazzi midem andatevelo a vedere e domani ore 11.30 io vi aspetto e segnatevi la premiera e domani ore 11.30 io vi aspetto e segnatevi la premiera